Un supermercato della droga a scoprirlo sono stati i carabinieri di San Giovanni Valdarno che hanno arrestato due spacciatori. Era ormai qualche giorno che i militari dell'arma avevano notato uno strano via vai sotto la casa di uno dei due pusher a Montevarchi. Così hanno deciso di far scattare il blitz quando un acquirente stava entrando in casa per acquistare la dose giornaliera. All'interno dell'abitazione i militari hanno sequestrato 15 grammi di cocaina, 127 di marijuana e altri grammi di eroina, due bilancini di precisione, una scatola di bicarbonato usato per tagliare le dosi di cocaina, dei pezzi di plastica trasparente utilizzati per creare involucri termosaldati in cui inserire le dosi, diversi smartphone e oltre 1000 euro, chiaro provento di spaccio. I due, un commerciante italiano con precedenti penali e un disoccupato albanese, anche lui con precedenti, sono stati arrestati e adesso si trovano presso la casa circondariale di Arezzo in attesa dell'udienza di convalida dell'arresto.